Un ringraziamento in primis alla Proloco e comunque varimento anche all'amministrazione comunale di Taino, ovviamente a tutti, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, ricordiamolo che sono quelle che chiuderanno le strade, anche loro. Perché mi riprendi? Tu mi riprendi ma non mi metti mai in filmato, non capisco perché mi devi tagliare. Aspetta che ti centro. Così almeno vengo bene sul filmato da 5 minuti, 3, 4 minuti. Variabile a seconda di come...